Noi siamo rimasti parecchio scioccati anche dalla cosa perché ovviamente è una fotografia che non ci rappresenta. Comunque credo che già da oggi siamo al lavoro per comporre tutta una serie di documentazioni molto importanti perché la nostra è un oasi e ovviamente in un'oasi arrivano e transitano animali che sono in difficoltà. Non ci sta l'azienda agricola Il Prato di Castiglion Fibocchia, l'immagine che esce all'indomani del sequestro di un intero allevamento di bovini, ovini e caprini e la chiusura di un laboratorio per la produzione di formaggio su disposizione del giudice per le indagini preliminari Giampiero Borraccia su richiesta del PM Angela Masiello. L'indagine nata dai Carabinieri Forestali della Procura e dal gruppo Carabinieri Forestali di Arezzo in collaborazione con i NAS di Firenze aveva preso avvio lo scorso gennaio. I sigilli sono scattati martedì mattina sia all'allevamento che al caseificio nel quale sarebbero stati prodotti i formaggi dagli animali malati. Secondo l'accusa i capi di bestiame sarebbero stati allevati in cattivo stato di conservazione, malnutriti con mangiatoie che procuravano lesioni e il stato di inadeguatezza igienico-sanitaria. 92 caprini sarebbero morti per la coxiella in pochi giorni. L'azienda spiega che gli animali recuperati da altri allevamenti sono seguiti quotidianamente da quattro veterinari. Ovviamente in un'oasi arrivano e transitano animali che sono in difficoltà, quindi ovviamente il nostro non è un allevamento tradizionale. È ovvio che nel nostro luogo ci sono degli animali che sono anziani, che sono in difficoltà, e il nostro compito è proprio quello di condurre alla partenza, alla ripartita, una serie di animali che dalle altre parti avrebbero un'altra soluzione. Normalmente negli allevamenti tradizionali la soluzione è il macello e benissimo, ovviamente non è contestabile, è una pratica normalissima anche se da noi non avviene e quindi è ovvio che è normale che la percentuale di casi e di anziani nel nostro allevamento è molto 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 alta. Infine, in merito alle forme di formaggio, è la stessa azienda a precisare che non era destinato alla commercializzazione. Noi abbiamo un laboratorio di sperimentazione che non produce formaggio commerciabile.